Stamattina hai licheite acuta. Ti succede sempre quando sei nei casini. Fosse per te ti ci fionderesti. Che relax. Comprarti anche solo, che so, un set di candele galleggianti Phenomen. Salvo poi ritrovarti nella shopper gialla una cifra di menate da panico. Portavasi discret, posate delicate, appendi abiti boomerang. Grazie. Grazie. Grazie.